Il Neutralizer Test è un kit rapido per la determinazione qualitativa dell'adulterazione del latte, siero e panna liquida con aggiunta di neutralizzanti o alcalinizzanti. Agitare bene il flacone del reagente principale e prelevare dalla confezione un numero di provette test in base al numero di campioni che si desidera analizzare. Aprire la provetta test e dispensare 5 ml di campione con una pipetta. Aggiungere 2 o 3 gocce di reagente a ciascuna provetta. Richiudere la provetta test e capovolgerla alcune volte per miscelare bene il contenuto. Come interpretare i risultati? Nel caso di test negativo, il liquido contenuto nella provetta diventerà arancio o marroncino. Ciò significa che nel campione non è stata rilevata alcuna presenza di neutralizzanti. Nel caso di test positivo, il liquido contenuto nella provetta diventerà rosso o rosa acceso e ciò significa che è stata rilevata la presenza di neutralizzanti nel campione analizzato. Grazie. 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 Grazie.